in the morning I'll be fine in the morning I'll be right if I go all the way in the girl salve a tutti ragazzi qui Metara e... no non vi ho abbandonato si sono tornato scusate ragazzi se non ho fatto questo video per questo mese però sono sotto gli esami quindi sono preso quello studio pazzo disperatissimo e quindi volevo portarvi questa nuova cosa la Divina RPG Modpack che si può trovare dentro la FTB in poche parole è basata sulla Divina RPG Mod e aggiunge un marcello di dimensioni tanti tanti boss e mob di tutto di tutto di tutto quindi ho già creato un mondo inizialmente per non offrire palle che ho solito inizio di merda e sono in questo villaggio ho trovato dentro non va bene era nella prova dall'altra parte ho trovato dentro cest qua dentro la cesta che c'era qua si un diamante una spada di... iron air ferro si e un po' di gold e anche iron air questo qua l'avevo raccolti prima io molto bene allora l'obiettivo ragazzi per il momento sarà cioè l'obiettivo di oggi è andare a cercare nuovi mob nuovi mob nuovi 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 mob che io in questo mondo non ho ancora trovato ma un altro di prova li avevo già trovati e sono leggermente equitanti e leggermente forti quindi per cui prendiamo un po' di barbobietole uno sempre buono papà ah ragazzi avevo in mente se riesco a finirla diciamo e farvi vedere cosa mi ha portato via così tanto tempo la mia tesina diciamo e qua porcè du e qua e capite perché mi ha portato via così tanto tempo ho fatto una specie di di cosa uno scatolone mi ha chiamato sparky sparky che simula la gestione normatica di una casa un po' incasinato ci ho messo abbastanza tanto tempo a farlo mi è andato fuori dai bene quasi finito vedete se lo scopo fuori via un piccolo video soprattutto a caricarlo perché in questa connessione lo squid dove va squid? vabbè dicevo non ho peccano niente vediamo se neanche verrà fuori qualcosa intanto andiamo a cucinare un po' di carne un po' di carne ma almeno sono in ah si va da che figato non so in norma ok va bene va bene così dove cazzo era il eh i forni sono qua ok la porta che si apre facendo strani suona ma va bene ma va bene così facciamo anche un po' mettiamo neanche tutte e poi c'è un po' di carbone ok dai ci ribrighiamo la porta che fa il rumore estremo e tra molto poco sbatterà ok forse è meglio mettere queste cose qua dentro la cesta di nuovo vuoi che dice tipo te ma ci mettiamo qua ci facciamo il villaggetto momentaneo c'è la casetta momentanea ok ok bene 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 andiamo all'esplorazione ok 1-2 e 1-2 yeee torci ok cos'è quella cosa? what the fuck? cosa cazzo è? oddio oddio lancia frecce oddio lancia frecce oddio lancia frecce oddio 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 odd tutti gli achievement si è della vanilla mamma mia ma non è fattibile una cosa del genere aiuto 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 e basta hai dato i coglioni te però non sei no vaffanculo mi sto già odiando ok capito che una notte è meglio chiudersi dentro oh le slime c'è una slime ma finì che c'è la slime mi senti anche la latte step uuuu cazzo aaa cosa sono queste cose? cosa cazzo sono queste cose? cos'è? abbiamo premuto così ah ok con F9 vediamo se ce la facciamo vediamo se ce la facciamo corri corri bello corri 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 andiamoci andiamoci aia 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 aaaah ok ragazzi qua ho capito che forse è meglio che no forse è meglio che no aspettiamo il giorno tipo su una ninfa e via non puoi venire in acqua ahahah si vediamo che aspetto il giorno su una ninfa faffanculo lasciami stare sulla mia ninfa allora stronzi uccido pugni uccido pugni stronzi stronzi cioè ragazzi piccolo post scrittum guardate che cazzo ho trovato e ho passato la notte mi sto cercando di trasferire cercando delle pecole guardate che cazzo ho trovato se zeko adesso aspetta che avevo la sesta proviamo ad andare a vedere perchè ha un macello di vita ti ho messo tutto tranne la spadina vediamo vediamo se che milagra adesso dov'essi dov'essi finito dov'essi finito eh niente mi sembra tanto la morte però eh un macello di vita con questo pappuccetto con la falce c'è che la strapro quella falce là però eh ahah prossima volta ti prendo bastardo va bene ragazzi questo è il piccolo post scrittum voglio farvelo vedere perchè chissà quando lo ritroverò la morte e ci vediamo ciao 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 ciao